no non incitatelo che già fa ci mette di suo si 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 la vela a posto se di un po ce n'è asparagi lì se ci sono degli asparagi vengo se ci sono asparagi vengo mani con la prestazione si chiama un po' di velocità arrivava lì sembra una ragazzina proprio fantastico vabbè sappiamo come passare la giornata andrei a mangiare giù nella società e prima bisogna fare la vela di renato poi altra volta quando abbiamo volato poco